Una richiesta di incontro urgente sui lavori della Via Verde è stata inviata dal sindaco di Ortona, Leo Castiglione, al presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, in qualità di ente appaltante dell'opera. L'enorme interesse suscitato dal percorso ciclabile che attraversa la costa dei Trabocchi attende infatti ancora di essere completato. Aspettative di sviluppo del territorio e dei rispettivi comuni che non possono essere disattese con il prolungarsi del cantiere dei lavori per il completamento dell'infrastruttura che anche quest'anno è stata invasa da turisti e bagnanti. Risultano infatti aperte diverse questioni progettuali legate soprattutto alle gallerie presenti sul tracciato e che ne compromettono il definitivo completamento entro tempi certi e sicuri. Il primo cittadino di Ortona manifesta timori per il completamento del tratto di pista che collega località del Lido Saraceni alla riserva naturale regionale dell'Acqua Bella con la galleria più lunga del percorso in alcuni tratti invasa da infiltrazioni d'acqua. Castiglione ritiene così urgente la convocazione da parte della provincia di una riunione che coinvolga gli altri sindaci interessati dal tracciato e anche la regione Abruzzo. Bisogna fare un piano di interventi per riaprire le gallerie perché rappresentano un ostacolo alla via verde. Qui ne abbiamo appunto la dimostrazione alle nostre spalle ma la stessa cosa è a San Vito, la stessa cosa è a Vasto. Quindi è un problema generale. Le gallerie fanno parte di questo tracciato e bisogna affrontarle. Quindi bisogna capire dove sono i problemi e come risolverli. Questo tavolo la funzione, la richiesta che ho fatto va in questa direzione, quella di capire quali sono le problematiche e mettere in campo tutti insieme la soluzione più immediata possibile. Intanto la galleria dell'Acquabella è la più lunga del tracciato e un via vai di già. Sì, purtroppo anche la sicurezza lascia un po' desiderare perché queste gallerie vengono aperte, vengono utilizzate. Questa qui dietro è completamente al buio e insomma non è tanto sicura però ci rendiamo conto. Anche questo è un discorso da affrontare, la gestione di questo tratto, la messa in sicurezza. Insomma ci sono tante cose e è arrivato il momento ormai di non perdere più tempo perché secondo noi si è perso del tempo, lo dobbiamo recuperare e speriamo di farlo a brevissimo tempo.